Il giovane giornalista assassinato barbaramente! Il giovane giornalista assassinato barbaramente! Sostiene Pereira che mentre si allontanava tra la folla, aveva la sensazione che la sua età non gli pesasse più, come se fosse tornato un ragazzo, agile e svelto. Con una gran voglia di vivere. E allora ripensò alla spiaggia della Grange e a una fragile ragazza che gli aveva dato gli anni migliori della sua vita. E per ricordare tutto ciò, ebbe voglia di fare un sogno, un sogno bellissimo a occhi aperti. Ma di questo sogno non vuole parlare Pereira, perché lo avrebbe raccontato di persona a colui che gli ha narrato questa storia.